Il popolo di Dio non perdona un prete attaccato ai soldi o che maltratta i fedeli. Il Signore ci dia la grazia della povertà cristiana. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando l'episodio descritto nel Vangelo del Giorno, Gesù che caccia i mercanti dal Tempio. Il Signore, ha spiegato il Papa, ci fa capire dov'è il seme dell'anticristo, il seme del nemico, l'attaccamento al denaro. Il cuore è attaccato ai soldi e è un cuore idolatra. Questo è il Signore che può rovinare la nostra vita e ci può condurre a finire la nostra vita male, anche senza felicità, senza la gioia di servire il vero Signore, che è l'unico capace di darci la vera gioia. È triste vedere un sacerdote che arriva alla fine della sua vita, è in agonia, in coma, e i nipoti, come avvolto io, lì, guardando cosa possono prendere. Dalle questo piacere al Signore, dateli questo piacere al Signore, un vero esame di coscienza. Signore, Tu sei il mio Signore, ho questo come Rachele, questo terafin nascosto nel mio cuore, questo idolo del denaro. Siate coraggiosi, siate coraggiosi, fate scelte. Il denaro sufficiente, quello che ha un onesto lavoratore. Il risparmio sufficiente, quello che ha un onesto lavoratore. Ma non è lecito, ma questo non è idolatria. È l'interesse. Che il Signore a tutti noi ci dia questa grazia della povertà cristiana. Che il Signore a tutti.